Sicuramente quello del 2014 è stato il più complesso dei progetti che io abbia mai seguito, sono ormai più di 15 progetti che ho seguito nella mia carriera e questo qui è sicuramente stato quello più complesso perché ha portato delle sfide nuove, il regolamento richiesto nuovi componenti e nuove soluzioni che prima non erano mai state esplorate. Parliamo di componenti nuovi, per citare uno per tutti il turbocompressore, ma poi anche la necessità di vedere tutta la vettura integrata con la power unit, con il motopropulsore, ha richiesto una rivisitazione completa della vettura che ha comportato sfide di altissimo livello. La complessità credo che sia la parola giusta per descrivere correttamente il progetto di quest'anno, in cui l'integrazione tra motore, sistemi di recupero di energia e vettura con i suoi requisiti di aerodinamica sempre molto importante, sono stati l'elemento centrale che ha caratterizzato lo sviluppo di questo progetto. Ci sono stati molti momenti impegnativi nei processi di produzione, partendo dall'inizio, cioè da alcuni anni fa in cui abbiamo iniziato a sviluppare il motore nuovo e abbiamo dovuto rivedere completamente attrezzature, mezzi di produzione, cicli di produzione per poterli adeguare al motore V6 mantenendo ancora in vita il motore V8. Negli ultimi mesi un progetto molto difficile è stato quello della scatola cambio che ha assunto delle dimensioni maggiore rispetto al passato, essendosi ridotta la dimensione del motore V6, la scatola cambio ha aumentato la propria dimensione e questo ha comportato delle complicazioni dal punto di vista produttivo. Non ultimo la necessità di convergere in queste ultime settimane verso la vettura integrando tutti i sistemi sviluppati negli anni ma facendo sì che tutto quanto possa stare in uno spazio estremamente ridotto come quello della vettura di Formula 1. Avere la produzione all'interno di un'unica realtà con motoristi e telaisti che sviluppano la vettura è stato sicuramente importante secondo me per raggiungere fondamentalmente un obiettivo di performance quindi questo ha permesso un'integrazione fino veramente all'ultimo minuto e sono convinto che questo sia uno degli elementi di forza del nostro progetto. Dal punto di vista produttivo questo forse è stata una complicazione in più perché grazie a questa opportunità fino all'ultimo minuto questo ha portato a continui cambiamenti proprio per raggiungere la massima integrazione e poter ottenere migliori risultati. Questo ha richiesto a noi e a tutti i nostri parco fornitori specializzati in componenti estremamente complessi di aggiornare la specifica di realizzazione fino alle ultime giorni, le ultime ore di produzione per poter arrivare verso il prodotto finito con la giusta affidabilità che contiamo di portare in pista agli Erez.